Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Kami di Volo e oggi giocheremo la Happy Wheels che è un gioco che già vi ho fatto vedere altre volte quindi voglio farvelo ripetere questo dovrebbe essere l'episodio numero 5 a me questa è una cosa che non vi devono interessare Happy Wheels, ok non aveva wifi quell'altra si faceva un po' di merda che ricava tanto no giocare a consenti, vabbè aspettando un momento ok, metto pausa ok, eccoci qua voglio provare a fare una cosa allora giochiamo a play vediamo un po' qui che livelli ci stanno ovviamente, allora, pokemon training no, facciamo i livelli personalizzati allora cerchiamo anche se non sono tifoso cerchiamo Juventus vediamo un po' che succede Juventus allora, vabbè Juventus vediamo cosa esce Juventus quiz allora, vediamo un po' su Juventus quiz anche se non sono tifoso no, allora no, questo va allora, benvenuto al primo quiz sulla Juventus vabbè grazie non sono tifoso alla Juve allora quanti scudetti ha Vitor questo vale per il 2014 dici, quanti scudetti ha dovrà? 32 penso 32 da napoletano no, ho sbagliato cazzo oh, ce la fa ce la fa 30 32 no, ma che cazzo sono morto in video che non si doveva morire vabbè ecco il gioco di Juventino che ok quando si scudetti abbiamo i 32 in realtà 30 perché due li ha rubati dopo calciopoli poi ci siete vitro io oh, ma che cazzo ah no c'è un po' cosa ok allora chi è la capa vabbè ovviamente Buffon no ma come in che anno nacque la Juventus 1987 1987 1987 no chi era il capitano prima di Buffon il conto o del Piero chi era il mare del Piero io non ho mai visto Conte con la faccia vabbè anche se non sono Juventino vediamo del Piero oh si affanculo Conte di Mertini se vediamo un po' se dicevo che fare qui vediamo un po' se Napoli vediamo Napoli 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 vediamo un po' cosa mi dice su Napoli Napoli come Nap Napoli vediamo un po' cosa mi dice Napoli Napolion no questo non è allora cerchiamo Cristiano Ronaldo vediamo un po' Cristiano Ronaldo vediamo un po' Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo ro pezzi di merda Ronaldo vediamo un po' il Cristiano Ronaldo anche se io non so facciamo il video solo da Rubentus Ronaldo o Messi vediamo un po' scegliamo Ronaldo o Messi che cazzo vorrebbe dire ora io voglio essere Messi 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 vai Messi e dai non fare cazzate si vede che Ronaldo è rodiato ecco cioè dai più Wills ovviamente allora Ronaldo si si allora Ronaldo periodo vabbè Ronaldo attacca ovviamente Ronaldo è attaccante scegliamo no ho scelto Ronaldo attacca bastardo io perciò non devo fare questi livelli dove questi livelli di merda no bambino il mio bambino perché Ronaldo figlio di puttana figlio di puttana ma che cazzo l'ha fatto pezzo di merda eh cosa ha fatto Ronaldo ah sono ancora vivo bastardo odo ma io non mi fido perché Ronaldo rischia sempre di uccidermi meno male che cazzo ho dicendo come trasparare vabbè sì allora cerchiamo livelli su Resident Evil che sono fan di Resident Evil oppure Resident Evil 5 davvero bellissimo Resident Evil Evil Eve non mi ricerca Resident Evil allora Resident Evil 4 Resident Evil 4 è bellissimo veramente molto bello spazzer e perché ma questo non è Resident Evil ma e quelli sarebbero gli zombie che mi vogliono mangiare oh poi ha grappato i pezzoni no la zeta l'ho toccata però no da un po' rifaciamola pochissima volta oh oh mi son toccato mi son toccato oh cazzi qui oh 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 reverse reverse lane left lane aspetta voglio fare acroba no non ci arriva acroba dai oh di questo va bene no ce l'ho fatta 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 no non vuoi mollare ora butta di ora no ok ok mi sei grappato si è grappato uno mi vuole che si butta adesso no e perché devo scegliere questo personaggio oh vai vai non mi sono neanche grappato in nessuna parte chissà come guarda all spears reverse left ten che bra superman ok mi sono aggrappato no no ce l'ho arrivato ce l'ho arrivato sono brutto no cazzo mi mancava soltanto ok devo rifare un'altra volta questo non è residente questo è residente 4 fix c'è ah quando residente 4 jump 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 che cosa allora siccome è un jump facciamo oh che bello eeeh ovviamente ovviamente oh no non ci arriva nemmeno con questo no mi sono aggrappato ma che bello si è vestito di lepatrix a te andiamo ok devo mettermi tipo qui eeeh oh non ci arriva per vincere molto più facile devo trovare il chiatone volante dove è il chiatone volante ecco il chiatone volante che molto semplicemente perché non ci ho pensato prima per star vabbè andiamo avanti resident evil b allora resident evil cap 4 cap 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 5 cap 5 vabbè resident evil 5 vediamo vediamo ci sono gli zombie o qualcuno che cosa eeeh i zombie ciao zombie ahia pezzi di merda vediamo un po' resident evil bio che non so ovviamente cosa sia ahia grazie cap 5 ho paura che sono i zombie eeeh ma questi non sono ah quando mi rendevi il bio oh no come cazzo sono morto porca merda ahia ma perché ti stacchi il piede bastardo ecco mi sono staccato tutti i due piedi e io deficiente si sono morto ma come cazzo ahah mi volevi staccare il piede bastardo 3 2 1 via no 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 aia vai sono ancora vivo ah questi piedi su resident evil sono davvero difficili cioè bastardo vediamo un po' resident evil quiz questo è più grande vediamo un po' su resident evil quiz cosa dice allora 7 umbrella corporation what's main allora quale è il presidente allora leon scott kennedy ovviamente leon scott kennedy what's the name of the virus il t-virus allora true false vero false nemesis what's b10 mad zombie eeeh false what's main antagonist way albert wesker e allora qual'è il stragi strange vabbè il mercante vabbè vabbè qual'è allora non so faccio a caso dal lago e il gigante e il gigante e lui Chris Redfield vabbè nooo cosa c'era se non lo sapevo però ho vinto no però io ho paura ora guarda la squadra delle raccon city vabbè no cazzo ho fatto tutto vabbè è un po' questa qua è un po' se è la stessa la stessa cosa si è la stessa cosa non vuoi che cazzo vogliono fare quelli di troppo eeeh vediamo il quiz questa è la stessa cosa ovviamente vediamo no 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 allora qual'è il soprannome di Simblins allora Declare Chris Eclare Redfield no che cazzo ho fatto ma non volevo andare lì ma che cazzo becca Redfield becca Redfield pezzato di mezzo quindi si spocca le polle porca ma l'osca allora one reworks umbrella other one ma da wong ma c'è una puttana adawong allora salto su quella salta su Redfield salta su Redfield adawong fa il culo allora in quale film di Resident Evil allora ha fatto ha fatto la centrata afferlare extension afferlare non ci sta no no non ci stava ecco qual'era l'afferter ma l'afferter qual'era ma era il terzo film non ci stava non c'era nel non era quell'altro era morto ma va fuori in culo va fuori in culo va afferlare a stavolta afferlare 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 allora in quale film di Resident Evil allora fermi in quale Resident Evil introduce Albert Wesker in quel film ha debuttato allora nel 2 non l'ho visto penso nel primo no 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 wow alnus all'idee all'idee allora in che film colore se l'ombrano col polizio red e white red vabbè red e white grosso no no sono ancora ma non ci sono andato lì sono andato lì sono lì l'ombrano corporation mi ha aiutato e vabbè ragazzi l'episodio 6 finisce qui e ci vediamo all'episodio 7 ciao